Buonasera e ben ritrovati dai campionati CAI, oggi Silver League di calcio a 11, la capolista Real Lions Savitalo ospita gli amatori Gazzola che hanno la possibilità di avvicinarsi alla vetta dopo una serie di ben otto vittorie consecutive. Real Lions in maglia azzurra schiera Cattivelli, Galluzzo, Delgado, Dell'Ova, Vargas, Cabrera, Paredes, Sanchez, Rosello, Maffei, Mascote, allenatore Mr. Leone. Amatori Gazzola risponde in maglia bianca con Pisani, Cavanna, Fracassi, Trabacchi, Bolzoni, Scotti, Auriemma, Morisi, Botti, Dieci e Irate, allenatore Mr. Del Redentore. In questo inizio di partita meglio Real Lions, qui quest'azione sviluppata sulla sinistra, il pallone in mezzo per Sanchez, bravissimo a liberarsi di tre avversari, poi a concludere con il destro, è altrettanto bravo però Pisani a respingere il pallone. Ancora il duello tra il portiere e il numero 9, qui Sanchez riceve palla sull'out di destra, calcia in porta e Pisani è bravo a deviare in calcio d'angolo. Ancora Real Lions però in avanti qui con Vargas che serve Mascote, il pallone in mezzo sempre a cercare Vargas che è fortunato a riprendere il pallone e con il destro di punta sfrutta l'errore dei difensori, in sacca per il gol che vale l'1-0 Real Lions. Gazzola però risponde immediatamente con questo calcio di punizione, trabacchi sul punto di battuta, calcia direttamente in porta, sorprende il portiere e trova il gol dell'1-1. Amatori Gazzola torna dunque in partita in questo primo tempo, ricordiamo gli ospiti vengono da 8 vittorie consecutive, cercano la nona per avvicinarsi alla vetta occupata proprio da Real Lions. Questa era l'ultima emozione comunque del primo tempo che termina per 1-1 alla rete di Vargas, risponde direttamente su calcio di punizione, trabacchi. Nella ripresa parte forte ancora Real Lions, qui calcio di punizione dall'out di sinistra, vera, è tutto solo, in area di rigore, non ha difficoltà a spizzare con la testa e a trovare. Il gol del vantaggio è 2-1 per il Real Lions. A questo punto i padroni di casa sono in completo controllo del match, qui con Olaia che scambia molto bene in mezzo, poi si ferma, cerca l'aiuto di un compagno, poi trova questo spassaggio per Sanchez che stoppa, conclude con il destro e bravo Pisani a respingere sopra la traversa. Ancora poi Sanchez si accentra, scarica col destro, Pisani respinge la difesa allontana ma la palla rimane sempre a disposizione del Real Lions, qui con Granda che riceve, calcia col destro e stavolta Pisani non è preciso, non riesce a fermare il pallone che si insacca per il 3-1 che chiude definitivamente il match. L'arbitro fischia, non c'è più tempo, Real Lions batte 3-1, gazzola e consolida la vetta della classifica.